come sai insegno negoziazione e in questo mondo io credo una regola che bisogna giudicare le persone più dalle domande che fanno che non dalle risposte che danno e quindi ti chiedo mi suggerisci una bella domanda da farti così almeno una domanda bella te l'ho posta oggi pensi che saresti stato più felice pensi che nei prossimi anni della tua vita sarai più felice facendo il rettore o sarei stato più felice non facendo? ok, caro Canova tu pensi che saresti stato più felice facendo o non facendo il rettore? c'è una parte di me che sicuramente sarebbe stata più felice non facendo c'è un'altra parte di me che spera auspica che quella parte di me sarà più felice facendolo ma un'altra parte sarà inevitabilmente più infelice le cose sono sempre complesse, ognuno di noi è uno, nessuno centomila quindi non essendoci un solo Canova ma essendoci un centinaio qualcuno godrà e qualcun altro soffrirà beh io sono di quelli che è contento che tu soffra un poco però che tu ci sia perché di figure come te ne abbiamo bisogno quindi ti ringrazio di questa intima chiacchierata grazie 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 grazie